Un episodio davvero allarmante, quello che è avvenuto ieri pomeriggio qui di fronte all'ingresso della scuola primaria Chiara Lubic di Vianitti, in piena zona Pantano, a fianco al parco giochi di Largo Baccelli. Qui attorno alle 16.30 due esplosioni, due micro ordigni rudimentali composti da bottiglie riempite di acido muriatico e carta stagnola che sono esplose a breve distanza ravvicinata. Non sono state coinvolte persone nell'episodio ma l'episodio è stato davvero inquietante e ha portato la scuola a dare l'immediato allarme per quanto accaduto, allarme alle forze dell'ordine, alla polizia che ha avviato le indagini. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno coperto con la sabbia le tracce di acido successive alla deflagrazione. Da questa uscita o entrata escono due classi perché abbiamo differenziato le uscite per il problema del covid già dall'anno scorso. Sono due classi. Diciamo che è andato tutto bene perché le due bottiglie sono scoppiate in due tempi diversi. Una quando era già uscita una classe e la seconda prima che uscisse l'altra classe. Naturalmente tantissime le chiamate delle famiglie a preside, vicepreside, insegnanti che hanno cercato di tranquillizzare così come questa mattina a rientro in classe. Gli stessi bambini parlavano dell'episodio. Si è cercato di tranquillizzarli perché non c'è nessuna correlazione, non c'è nessun precedente di rivalsa verso la scuola. L'episodio sembra assolutamente slegato da qualunque legame con la scuola, dunque una mattinata anche all'insegna del cercare di tranquillizzare tutto l'ambiente. È difficile da spiegare. Questa mattina i bambini erano veramente... si parlavano fra loro di questo. Probabilmente chi ha assistito, chi ha visto era rimasto abbastanza colpito. Più a casa i genitori ne avranno parlato anche con preoccupazione, per cui loro l'hanno assorbita. Io in particolare con i miei, che sono poi una delle classi che esce da qui, li ho rassicurati. Ho cercato di dare non troppa importanza alla cosa e ho detto che a volte, spero che sia così, insomma, a volte uno scherzo che vuole essere uno scherzaccio poi può provocare qualcosa di più grosso se uno non ci pensa e quindi abbiamo parlato di questo. Noi siamo in contatto con le autorità competenti che stanno indagando, si stanno interessando tantissimo della cosa e soprattutto, proprio per tranquillizzare i genitori, dico che noi qui siamo, loro ce l'hanno assicurato, assolutamente controllati, anche se non li vediamo, ci sentiamo tranquillissimi. Intorno alla scuola c'è un grande controllo. Spero che riescano a capire come sia partita questa cosa, chi possa essere irresponsabile o quanti sono, non lo so. Noi non abbiamo idea perché, sinceramente, forse potrebbe essere stata anche una cosa che voleva essere una specie di brutto scherzo e che invece non si è pensato potesse avere delle conseguenze, che per fortuna non ci sono state, sono state molto, abbastanza gravi, qui ci sono dei bambini, quindi tranquillizzo i genitori perché noi siamo adesso molto controllati.